salve a tutti oggi tratto dal mio libro funzione psicoterapeutica dell'arte marziale edizioni tabula fati vi leggerò il capitolo dedicato alla mano umana perché la mano umana perché per esempio la parola karate do volgarmente detto karate significa do la via te mano quindi la via della mano cara vuoto ripreso da un ideogramma della parte zen che significa vuoto mentale quindi per traslazione la via della mano nuda quindi la mano è un organo fondamentale delle arti marziali quindi ho dedicato questo capitolo alla mano umana la mano sembra un organo dimenticato rispetto ad altri organi come l'occhio la bocca non è stata considerata da parte degli studiosi l'immagine della cultura occidentale è principalmente fatta di parole suoni e immagini la mano sembra essere una parte accessoria ed oggi c'è la tendenza a ridurre il più possibile la funzione manuale delegando la classi considerate inferiori negli anni ottanta la parola handicap di origine inglese denotava varie anomalie e all'origine si riferiva specificatamente alla mano la parola infatti è composta da hand mano e cap guanto guaina capsula probabilmente la sua origine è nel latino capere che significa afferrare e indicava la condizione di una persona con le mani in trappola seguendo l'itinerario di arturo conte grande genio della psicologia troviamo che alla mano in trappola fa ecco il piede in trappola derivato dalla parola peccato il verbo peccare si sviluppò da un precedente pedicare il cui significato è piede pes che cade nella trappola pedica sicuramente la civiltà prodotto sostituti di questi due organi e non sarà difficile immaginare un futuro di un essere senza mani e senza piedi la civiltà procede con una mano monca che il solo significato di prendere cioè di afferrare chiudere c'è un'area dimenticata che è quella delle funzioni creatrici della mano fra cui quella del dare nella storia umana c'è stato un momento in cui la mano ha perso le sue funzioni già aristotele mentre sosteneva nella sua metafisica l'importanza della mano animata nella politica legittimava la schiavitù e nel corso del tempo si è sempre più manifestata la rimozione della mano si disdegna il lavoro manuale la separazione tra attività manuali attività intellettuali ha portato gli uomini verso le attività della parola rifuggendo da quelle manuali oppositori di questo sistema furono sicuramente socrate che faceva lo scultore e quel gesù che in gioventù fece il falegname l'urigia un medico sovietico riferisce nel suo libro un mondo perduto e ritrovato della rieducazione di un ufficiale sovietico ferito alla testa con le conseguenze gravi di disturbi della parola e del comportamento ebbene attraverso gli strumenti dell'artigiano quindi operando piantando chiodi piallando e utilizzando tutti gli altri strumenti l'ufficiale ritrova la parola e il controllo del suo corpo con queste esperienze si fa luce una profonda connessione fra mano e mente si può iniziare sempre con un'affermazione di arturo conte la mente è una mano dilatata e composta la mano corporea quindi è rimasta schiacciata tra la mano della mente e la mano della civiltà fin dagli albori l'uomo ha voluto amplificare le sue funzioni corporee con l'invenzione di strumenti e di utensili le lame dei coltelli hanno amplificato le unghie le tenaglie e le pinze hanno reso più forte le dita le gambe sono diventate più veloci cavalcando per esempio costruendo ruote l'amplificazione delle funzioni va bene ma quando si è passati alla sostituzione delle funzioni dell'organo si è avuto una criticità corporea automobili ascensori aerei televisioni radio computer in questa situazione si è avuto uno scotoma tra funzione e organo e tutte e due sono rimasti come semplici appendici del sistema corporeo si potrebbe pensare che la sostituzione sia avvenuta in epoca industriale ma bisogna risalire agli albori della schiavitù la parola serve illuminante corrisponde all'iranico haurvo che indicava il guardiano del bestiame in questo modo il servo ha completamente sostituito la vista del padrone sciare cavalcare dipincere incidere combattere con e senza armi bianche e tutte le altre innumerevoli attività corporee implicano la messa in campo di qualità creative attraverso gli attrezzi si amplificano le funzioni che cosa accade però quando le funzioni vengono delegate ad altri o ad apparecchi meccanici in una prospettiva futuristica arriveremo ad un uomo che arti organi come semplici appendici da ornare dove c'è un ornamento lì c'è una funzione scomparsa e i suoi processi mentali saranno sempre più sostituiti da apparecchi cibernetici la sostituzione comporta di conseguenza una mutilazione di organi e funzioni al primo posto di mutilazioni ci sono sicuramente le mani la prossima volta continueremo